In rappresentanza di quelli che vanno a scuola perché vogliono imparare a non scaldare la sedia, che credono nel futuro, facciamo un grande applauso a Greta! Più forte! Va bene. Grazie, grazie a tutti. Vedere così tanta gente che crede di poter cambiare questo paese con il nostro Matteo, quello giusto, è davvero emozionante. Soprattutto da questo palco. Intervengo a nome di tutti gli studenti leghisti che vengono discriminati solo perché hanno delle idee differenti da quelle di sinistra. I centri sociali sono una minoranza anche nelle scuole, ma nonostante questo un comune come quello di Roma oggi ha autorizzato a loro una contramanifestazione. Matteo Renzi si conferma il classico politico di sinistra che fa promesse e non le mantiene. Infatti anche sulle scuole tante parole ma zero contenuti. La riforma della buona scuola non si è ancora ben capito in cosa consista, ma l'unica certezza è che come sempre quelli penalizzati saranno gli studenti. Nonostante tutte le difficoltà continueremo a portare avanti le nostre battaglie per tutelare i veri studenti e non i mantenuti dei centri sociali. Una vera riforma della scuola consentirebbe a noi giovani di continuare a vivere nella nostra terra e non di sentirsi costretti ad emigrare all'estero. Noi vogliamo restare che a Renzi piaccia oppure no. Lui invece deve andare a casa. Grazie mille e buona manifestazione a tutti.